Il Molise non esiste? Tanti prendono di mira questa regione italiana chiamandola Molisent. Proviamo a capire perché. È la seconda regione più piccola e meno abitata d'Italia, con 4.438 km2 e quasi 300.000 abitanti. È la seconda, non la prima, quindi non fa molta notizia. La prima è la Valle d'Aosta, che tutti conoscono anche perché include le quattro vette più alte d'Italia. Il Molise è una regione giovane, creata nel 1963 per distaccamento della provincia di Campobasso dall'Abruzzo. Non avrà una grande estensione, ma montagne, colline e zone costiere ha tanto potenziale per turisti che cercano natura, relax e prodotti di altissima qualità. Qui vivono anche minoranze etniche e linguistiche, come i croati del Molise e gli Airbresh o albanesi d'Italia. E meno male che non esiste. Sarà vero che...